Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Non dovrei farlo, non dovrei farlo Ma ho notato ragazzi che Vinted non mi fa fare più la revisione degli oggetti Tanto finché porco diavolo non vado dal Dottor Doom porco diavolo Torco diavolo porco Non me ne frega un cazzo la faccio questa missione di merda La faccio questa la missione di merda Mi incazzo sul serio Ma ti pare che non riesco a farla Questa mi manca, questa colpisce i giocatori con i guanti arcani di figlio di puttana Andiamo Oh mio dio, ma ne ho messi due sotto raga Non lo so No, non può essere un godpack Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ci vedete? In teoria dovreste vederci In teoria dovrebbero vederci Vediamo se ci vedete Eeeeee 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 FUKAM 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 IRL Potreste vederci bene Altrimenti siamo nella merda Ti prego dimmi che ci vedete bene Eeeeee Nice Senza staccare la connessione Molto bene Molto bene Ah Devo sempre smadonnare io Ma queste le hanno fatte a Modena eh raga Prima del 2000 Perché era quando è iniziato le... Noo Ryunzaki non sono quelle che puzzavano Quelle che puzzavano le più grosse Però dentro Ci sono Questo blocco di carte C'è 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 Vabbè ma la freccia figa La freccia Non è che dico tanto Testa di minchia È la gomma No 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 Non è la gomma Vai 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 te vai Non è la gomma Vai 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 Non vuoi per cortesia guidare bene questo cazzo di furgone Se lo sto guidando bene E allora guida bene sto furgone E allora mettilo giù per terra Adesso la colpa è mia Eeeh guido io Eeeh ho capito ma io guido bene Non mi sembra E' un otto Jack la prego non vada a fare a dire Ehi 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 Niente Trampa Adesso dovremmo iniziare col primo La prima hollow reverse Adesso è supposta la prima hollow reverse Attenzione Eh sì Potrebbe arrivare Ed è un Vulpix Questo è bello mi piace Non le piace No è carino Mi sembra obeso questo Vulpix però mi scusi Mi sembra obeso questo Vulpix Mi scusi Ha mangiato un pochino Ha mangiato un po' tanto Tanto sotto c'è un Eevee Giusto per dire Attenzione Allora Vi chiedo scusa Io sono un po' di mesi che ho questo Charizard Ma non è stato facile per me dire pubblicamente una cosa del genere Eeeh In quanto non riesco a svolgere correttamente Il mio lavoro da partner Epic Grazie Grazie Perfetto Non gli daranno mai il permaban Magari tre giorni se li prende Signori io ho fame Adesso devo mangiare Aspetta che devo scrivere una persona Aspetta che devo scrivere una persona Aspetta un attimo Geccone Abbiamo pullato un God Pack Nel primo Nel primo bustino di Assa Allora 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 Fanculo Suca Brutte merde Non pagheremo mai la tangenziale Stronzi Voi e la vostra privatizzazione Abbiamo mangiato pasta aglio, olio e peperoncino E due polpre Luca E tre Senza strisciare troppo Senza strisciare troppo Quindi io Vada Due Uno Oh Oh mio Dio Dai subito Mio Dio Alessandro Greco Alessandro Ovunque tu sia È a Ibiza È a Ibiza È a Ibiza È a Ibiza in spiaggia Porca broia Questo è a Ibiza in spiaggia E gli è saltato fuori E se gli Signori No Vabbè Vabbè Per oggi Ci siamo Stati E Concetto dei Tropea A Bologna Che cazzo sono i Tropea? Conosci Tropea? No E di cose che fanno Io spero Death Metal Ma secondo me i Tropea Non fanno Death Metal Pare che c'è un bel bordello a rientrare Te lo dico Mohamed Lei si chiama? Sofi Mohamed Matteo? Come ti chiami? Lur Nur Nur Mohamed Matteo Luca No Luca Si Mohamed Matteo Luca Nur Tommaso E Francesca Molto bene andiamo allora Molto bene Salutiamo anche Pietro H Francesca Allora io Mi sono già dimenticato i nomi Anche il mio nome Si lei non sa neanche perché è qui soprattutto Nel senso Lui è Jack777 raga Allora Nuovo serie di Doom e Deltaplano Va bene Non sappiamo quando arriverà Io io Orange Daisy 6900 Orange Daisy Ciao Grazie dei sei Grazie Daisy Thank you so much Grazie a tutti i ragazzi che si stanno abbonando al canale Grazie per il supporto ragazzi E sono originali perché ci hanno poi attaccato Guardate Guardate dietro Guardate dietro Vedete che ci hanno proprio le etichette Questa l'ha slivata questa etichetta Poi ci hanno tutte comunque Poi ci hanno tutte comunque E poi le vedi Le vedi Le vedi che sono Vedi Ci hanno proprio le etichette Queste